e non solo. Bentrovato Ministro innanzitutto, grazie per essere con noi, eccoci qua. Grazie a Verona, grazie a Vinitali, grazie al Direttore, al Presidente di Verona Fiere. È emozionato anche lei, dica la verità però. Beh molto, perché io sostanzialmente ho iniziato a fare il Ministro a settembre 2019 e a febbraio è iniziata la pandemia. Quindi di fatto momenti di confronto così, in presenza, a fiere di questa portata, non siamo riusciti mai a vederle. È bello ricominciare, è bello che si ricominci da qui, da questa che è la fiera della filiera più importante di tutto il settore agroalimentare italiano. Senta, le chiedo, qual è la fotografia dal Ministero del Stato di Salute del Vino Italiano? Beh, si parte da dati eccezionali, poi ho scoperto delle cose, i wine lovers sono quelli che praticamente vengono in fiera a bere gratis. Sì, siamo quelli, siamo quelli. Si potranno chiamare anche in un altro modo. La ricchezza del 2021 è stata incredibile, il vino, 7 miliardi e 100 di esportazione, grande crescita in volume e in valore. Quel percorso di crescita che continua in modo incredibile all'interno di un settore primario e agroalimentare che ha fatto tutti i record possibili di esportazioni, che sembrava più, certo, una componente di rimbalzo rispetto al 2020, ma una componente strutturale di crescita e di rapporto con i mercati esteri. Una filiera che funziona, che trasferisce bene il valore aggiunto. Ovviamente questo momento ci lascia un po' di amarezza per quello che poteva essere il 2022 e che invece non sarà per colpa della guerra. Certo, allora possiamo dire che il vino ha resistito al Covid sicuramente, adesso con la guerra le preoccupazioni anche ieri sera a quelli dei proprietari delle aziende sono quelli sugli extracosti. Ha fatto primo riferimento il presidente danese, si parla di un miliardo più di spese. Citandola rispetto alla platea brutalmente, rispetto alla frase di Draghi, volete la pace o i condizionatori accesi, volete la pace o i refrigeratori in azienda o le tante spese ovviamente che dovranno sopportare. Come li supportate invece voi come ministero? Qualcuno ha parlato anche di spese in più di energia del 100%, ovviamente per energia, vetro, carta, imballaggio. È evidente che il problema che dobbiamo affrontare oggi è che la vera emergenza è proprio l'aumento dei fattori della produzione, l'aumento dei costi che le imprese devono sopportare per continuare a produrre. Non siamo ancora in una fase di mancanza di prodotto e se lo siamo è per fenomeni speculativi e non reali, anche se è evidente che ad esempio per il vino chi fa vetro e carta è costretto a produrre meno perché paga troppo l'energia, sono settori molto energivori, sia quello del vetro che della carta e quindi può esserci già una carenza di prodotto. Quello che abbiamo fatto fino adesso è stato sostenere con più di 15 miliardi già di euro stanziati per abbassare l'impatto complessivo su famiglie e imprese del costo dell'energia, del costo del gasolio e della benzina, la riduzione delle accise appena prorogate i 10 giorni. Lo faremo avanti a fine aprile con il decreto che dopo Pasqua utilizzerà i 5 miliardi di margine che il DEF ha approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri lascia nelle disponibilità del governo e se sarà necessario io dico dovremmo continuare in questo modo perché se già con gli interventi massicci che abbiamo fatto molte aziende stanno producendo meno perché non riescono a sopportare l'aumento del costo dell'energia, è chiaro che se non continuassimo ad immettere risorse sarebbe un dramma totale. La sensazione è che sarà necessario oggettivamente. Sarà sicuramente necessario anche perché purtroppo non ci sono prospettive immediate di pace e di soluzione della crisi. Il tema vero è capire poi come frenare i fenomeni speculativi perché qui o l'Europa si rende conto che deve ragionare come ha fatto in fase di pandemia oppure il nostro sistema paese è destinato a pagare più di altri le conseguenze di questa crisi. Quindi lei dice sostanzialmente che l'Europa è stata unita nel gestire il Covid e per adesso meno unita nel gestire la crisi che segue alla guerra ucraina. Ha iniziato nel modo peggiore possibile come affrontare la crisi. Per favore, posso chiedere un po' di silenzio? Scusate, sento un vociare, abbiateviate, capiamo il grande fermento del Vinitali, però grazie. L'Europa non ha affrontato l'inizio di questa crisi come ha affrontato la pandemia, come ha affrontato il Covid. Lì l'impatto è stato simmetrico, tutti i paesi sono stati colpiti dal lockdown, dalle chiusure, dalla difficoltà e quindi era evidente che ci sarebbe stato un moto comune per risolvere i problemi. Questa crisi è asimmetrica perché impatta per noi che abbiamo forti dipendenze energetiche, impatta molto meno per paesi che quella dipendenza non ce l'hanno, come la Francia che con il nucleare ovviamente ha minore impatto sul costo dell'energia. Qual è il rischio? In qualche maniera bisogna aiutare il produttore italiano a stare nel livello di spesa del produttore francese. Se prevale l'egoismo dei paesi europei non si trovano le soluzioni che possano far affrontare a tutti i paesi europei, allo stesso modo questo è un momento di difficoltà. Chiaro, fatto riferimento all'Europa, togliamoci subito il dente NutriScore. Lo abbiamo definitivamente allontanato come ipotesi per quanto riguarda il vino o c'è ancora il rischio? Se all'inizio, a febbraio dello scorso anno, mi avessero detto di scommettere un euro sul fatto che il NutriScore sarebbe stato sconfitto dal sistema paese Italia che si è battuto contro, non l'avrei scommesso. Oggi scommetterei invece che siamo sostanzialmente sulla strada del superamento di quella che era una criticità enorme e l'abbiamo fatto grazie alla compattezza con cui abbiamo approcciato quel dossier, perché è evidente che accettare l'idea che un bollino colorato possa dire se un cibo è buono o cattivo, senza entrare nel merito di quello che è quel cibo, di quanto ne assumo, di qual è la mia dieta, di come lo compongo la mia dieta, è ovviamente un sistema che serve per condizionare il mercato a favore delle multinazionali dei paesi del nord Europa contro le produzioni distintive e le eccellenze del nostro patrimonio agricolo, agroalimentare, che è anche culturale e appunto di tradizione. Ci siamo imposti di combattere con un fronte comune questa battaglia, l'abbiamo fatto con i parlamentari europei, con il governo, con tutte le forze politiche, con un grande mandato parlamentare, abbiamo convinto alcuni paesi che erano invece a favore del Nutri-Score a retrocedere da quella convinzione o a cambiare completamente idea. Ad esempio, quali paesi? La Spagna e la Slovenia in particolare, che sono paesi importanti, ovviamente in particolare la Spagna, ma in Francia c'è un dibattito apertissimo sullo tema del Nutri-Score, perché le aziende francesi si sono rese conto, i produttori dei formaggi francesi, si sono resi conto di quello che significava per loro avere il bollino rosso, banalmente. Però qui la battaglia non può essere soltanto a difesa, un po' di retroguardia a difesa degli interessi di un singolo paese. Qui c'è una battaglia da fare, soprattutto dei diritti dei consumatori di essere informati. E noi abbiamo un grande vantaggio che avendo prodotti di qualità, grandi eccellenze, più il consumatore è informato di quello che sta mangiando, più sceglierà il prodotto italiano perché sa che è un prodotto di qualità. Senta, Ministro, non ci sarà molto probabilmente, lo speriamo, il semaforo del Nutri-Score sulle bottiglie italiane, ci sarà invece l'Ape che certificherà la sostenibilità, un'Ape, vera e propria. Però le chiedo, guardi, le dico molto sinceramente, a volte questo argomento della sostenibilità mi sembra un po' tutto e nulla. Allora, di fronte a produttori di vino, a Bayer, ecco, se lei da Ministro dovesse dire domani dovete diventare sostenibili, soprattutto su questi criteri, quali sono quelli fondamentali? Intanto è importante il percorso che si è fatto rispetto all'obiettivo finale. Cioè, noi abbiamo fatto alcune fatiche a mettere insieme le esigenze di tutta la filiera e dei diversi portatori di interesse per individuare, appunto, sono quelli della tipologia di agricoltura integrata, quindi un impatto più limitato possibile sull'ambiente, l'uso delle nuove tecnologie, la capacità di lavorare la terra con meno input ambientali, con minor trattamenti. Allora, la sostenibilità, se è demandata semplicemente a uno slogan e a un'autocertificazione, per questo abbiamo creduto tanto nel sistema nazionale di certificazione e la scelta del logo sarà importante, quindi un periodo di sperimentazione, dal 2023 si va a regime. E' importante che, appunto, il consumatore sappia che quando vede quel bollino, quando vede quel logo, dietro non ci sono parole, ma ci sono produzioni che effettivamente hanno, nella parola sostenibilità, credono veramente e investono. Anche perché, ricordiamolo sempre, insomma, ovviamente il consumatore che andrà a comprare il vino sostenibile, peraltro su questo abbiamo parlato tanto dei giovani statunitensi, giovani italiani, giovani europei, che stanno già premiando i vini sostenibili, più che avere qualcosa di diverso nel vino, avrà uno spirito diverso, anche etico e non solo, ovviamente, di consumo di energia e del suono. Peraltro, chi è stato sostenibile è anteletteram, adesso sta soffrendo di meno la crisi legata all'energia, diciamoci anche questo chiaramente. Senta, si parla tanto di PNRR, sembra, insomma, come dire, il grande piano che risolverà tutti i problemi dell'Italia. Per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda proprio il mondo del vino, il PNRR impatta o no? Il PNRR è nato in un momento in cui non c'era ovviamente il riflesso della guerra e il grande tema dell'energia, ma in realtà ha anticipato questo tema, per fortuna, con progettualità, con misure che vanno proprio in questa direzione. Cioè, nella multifunzionalità dell'azienda e nella diversificazione del reddito, nell'accompagnamento al reddito agricolo con altri strumenti di guadagno e di reddito. E l'energia è sicuramente uno di questi. E quindi ben tre delle misure agricole riguardano il tema dell'energia, il biogas, il biometano, l'agrisolare e l'agrivoltaico. In particolare l'agrisolare è la misura che abbiamo già notificato in Europa. Appena avremo la luce verde europea partiremo col bando, sono un miliardo e mezzo per installare con un contributo pubblico importante pannelli fotovoltaici sulle strutture esistenti, quindi senza l'uso del suolo. È chiaro che questo vale anche... Installarli anche velocemente, senza una burocrazia troppo lunga, su questo state lavorando? No, non solo stiamo lavorando, abbiamo già lavorato perché nel decreto del primo marzo gli impianti fino a 200 kilowatt installati, l'azienda agricola media consuma ben meno di 200 kilowatt, la procedura è semplificata e non c'è richiesta di autorizzazione di alcun tipo, nemmeno paesaggistica, a meno che non ci sia un vincolo monumentale sul fabbricato. Quindi fino a 200 kilowatt la pratica non c'è più, è semplicemente una comunicazione di inizio dell'attività di installazione. Se aggiungiamo a questo la possibilità del contributo con il piano nazionale di ripresa e resilienza, è chiaro che riteniamo che quel circa mezzo gigawatt di energia che sarà prodotta con il piano nazionale di ripresa e resilienza sarà fatto con tempi rapidi e a sostegno appunto della diversificazione del reddito delle imprese. Allora siamo pronti ovviamente a girare per i padiglioni, le chiedo due ultime cose, la prima legata allora, insomma diciamo che il suo ministero durerà fino alla fine della legislatura, insomma non ci saranno... Il ministero andrà avanti anche dopo, eh? No, certo, il suo incarico da ministro ovviamente. Il mio incarico da ministro. Insomma non penso che vogliate abolire il ministero delle politiche agricole. Però le chiedo, da qua fino alla fine del suo mandato quali sono le promesse che fa a questa platea? Che cosa farete sostanzialmente? Ah io, guardi, promesse è sempre difficile farle perché ci sono contingente che poi... Contingenze che poi ti portano magari in altre direzioni. Quello che posso dire è che continueremo a credere nell'agricoltura italiana, nella sua capacità di produrre non soltanto cibo ma cultura e tradizioni e dovremmo trovare il modo di continuare a sostenere questa capacità produttiva di fronte a un mondo che sta andando sempre di più purtroppo verso l'agricoltura come una grande commodities, come un qualcosa che deve essere omologato e deve essere tutto uguale. Questa è la promessa che posso fare e il massimo impegno affinché invece si continui a garantire l'eccellenza del prodotto agroalimentare italiano. A proposito di questo, quell'ipotesi Golden Power lanciata da Zaia per quanto riguarda le aziende vitivinicole italiane? Beh, io faccio il ministro da quasi tre anni. Penso che l'unica operazione di veto con un Golden Power applicata e già attivata è stata proprio su un'operazione che aveva a che fare con un'azienda del campo agroalimentare di produzione di sementi. Quindi il Golden Power in agricoltura già esiste ed è l'unico caso in cui lo abbiamo utilizzato come veto su un'operazione di acquisto, di vendita, proprio perché riteniamo strategico difendere le eccellenze agroalimentari italiane. Ci sono anche proprietà russe per quanto riguarda aziende vitivinicole, non so su quelle come volete, adesso vi state già muovendo. Credo che ci sono proprietà di ogni nazionalità, la nostra difesa va al prodotto e all'italianità del prodotto e non è la cosa, non è indifferente, perché le nostre tradizioni sono legate anche alla nostra cultura, alla nostra capacità di fare cibo e non possiamo perderla. Non eludo il discorso ovviamente di quelle aziende che avevano un florido mercato con la Russia e adesso stanno soffrendo. Su questo avete promesso dei sostegni, se non mi sbaglio, o comunque dei sostegni per indirizzarli, che cosa vuol dire? Beh, significa fare promozione su paesi terzi per diversificare ovviamente i mercati di sbocco. Se ho perso un mercato devo trovare un altro, ma sicuramente sarà fatto un focus per tutte quelle aziende di tutti i settori produttivi che avevano un rapporto stretto con il mercato russo-ucreino, russo in particolare, e che quindi non avendolo più hanno perso una capacità di profitto. Nel prossimo decreto sicuramente ci saranno dei sostegni specifici per queste aziende. Allora, Ministro, io non le chiedo adesso con quale vino brinderà, ovviamente l'apertura del Vinitaly, già c'ha in mente il suo percorso di padiglione, li deve fare tutti e tutti i 17. E credo che brinderò con tutti i vini, quindi il problema sarà arrivare a fine serata. Assolutamente. Grazie Ministro Patuanelli, grazie a voi, buon Vinitaly! Grazie a voi.